Romelu Lukaku graziato nel vero senso della parola. Avete visto la decisione di Gravina? L'andata della Coppa Italia tra Juventus ed Inter all'Allianz Stadium è stata molto accesa soprattutto nel finale di gara dopo la concessione del rigore all'Inter a causa di un fallo di mano di Bremer. L'esultanza di Lukaku, la sua solita, d'altronde ha indotto l'arbitro a estrarre il cartellino giallo, il secondo della sua partita. L'Inter aveva presentato ricorso, che inizialmente era stato respinto, ma il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, come riportato da Lanza, ha appena graziato in via eccezionale e straordinaria l'attaccante dell'Inter, bersagliato da insulti razzisti. Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo è elemento fondante dell'ordinamento sportivo, spiega il provvedimento della Federcalcio. Lukaku dunque torna disponibile per la gara di ritorno tra Inter e Juventus in programma mercoledì. Un segnale forte e concreto contro il razzismo. Applicato dunque l'Istituto della Grazia per revocare questa squalifica.